bella ragazzi missione di distruggere cucce per cani bisogna semplicemente andare in posti abitati come siepi come corso come porco pacifico basterà semplicemente distruggere le cucce per cani una volta raggiunto il quantitativo ragazzi la missione è bella che completata come sempre spero che vi visto a tutti e bella